Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Le dico Benito Mussolini? Sua eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini ne ho sentito parlare. Credo che sia stato Presidente del Consiglio Italiano. Del fascismo lei cosa pensa? È un periodo storico della nostra patria con alcune cose buone, molte cose non buone, ma che assolutamente... Tra quelle buone? Ce n'è un'infinità per dire. Potremmo incominciare se oggi gli italiani hanno le ferie pagate, se esiste l'Inps, se esistono moltissime delle scuole, degli ospedali oggi ancora attivi in Italia, sono stati fatti in quel periodo. Beh, queste sono le cose buone. Poi le cose cattive, chiaramente, la mancanza di libertà non può trovarci e non ci trova assolutamente d'accordo. Lei ha detto che è da idioti affermare che il fascismo è stato il male assoluto. Beh, non è secondo me una cosa intelligente, oppure mi va bene, ma se lo uniamo immediatamente viene seguito da così come il comunismo. Lei lo festeggerebbe il 25 aprile? Questo 25 aprile assolutamente no, perché il 25 aprile, che dovrebbe essere una festa nazionale, è la festa dei comunisti. Perché i partigiani comunisti, ed è la stragrande maggioranza che oggi sfila per le strade d'Italia, purtroppo erano i partigiani che nel 25 aprile volevano sostituire una pessima dittatura con una dittatura ancora peggiore che era quella comunista. E io con questi non ci sfilo. E le polemiche sulla presenza anche nel partito di nostalgismi, saluti romani? Io non ne vedo, già da anni e anni.